Di malattie effettive e di straordinario. Sono stati in prima linea durante tutta l'emergenza coronavirus, hanno salvato vite umane, hanno fatto straordinario e rinunciato a ferie e contatti con i familiari. Ora però pretendono ciò che gli spetta. A far valere i diritti del personale dipendente dell'Aso, oraria vasta 1, sono i sindacati territoriali che oggi hanno protestato dietro alla sede di via Ceccarini nel centro storico di Fano. Chiediamo innanzitutto rispetto, rispetto e dignità è una professione. I dipendenti dell'area vasta 1, a differenza dei altri colleghi della stessa provincia ma anche della stessa regione, non hanno avuto corrisposto il cosiddetto premio Covid. In base alle risorse che ci sono non può essere pagato un premio soddisfacente per garantire quello che i dipendenti hanno dato. Quali sono invece i dati relativi agli infortuni sul lavoro? Nell'ambito della nostra provincia si sono registrati il 39% degli infortuni denunciati nella regione Marche. L'altra cosa di cui siamo preoccupati rispetto alla quale chiediamo garanzia è appunto il rispetto delle normative sulla sicurezza perché soprattutto nella prima fase della propagazione del contagio le preoccupazioni dei lavoratori erano quelle di poter lavorare in condizioni di sicurezza. Non vogliamo più trovarci di fronte a operatori che si trovano a dover avere a che fare con una scarsità di dispositivi di protezione, con un'organizzazione dei percorsi che non garantisce la sicurezza per loro come lavoratori e anche per l'utenza che si trova in quel contesto. E le frasi scritte sugli striscioni affissi nel pomeriggio racchiudono lo stato d'animo dei dipendenti. Eroi solo a parole per lavorare, non abbiamo bisogno di elemosina. Riportato a voce anche il messaggio di chi lavora ogni giorno nelle corsie degli ospedali. Se dovesse avanzare una seconda ondata noi saremo a casa. Noi siamo molto amareggiati, ci siamo sentiti abbandonati da questa amministrazione durante il periodo dell'emergenza. Abbiamo tutti dato il 150% per poter fronteggiare l'emergenza con scarsità di dispositivi di protezione, ferie bloccate, congedi bloccati perché tutti eravamo indispensabili. Ma da parte dell'amministrazione non abbiamo visto lo stesso sforzo per aiutarci a fronteggiare queste situazioni. Abbiamo visto proprio la diminuzione di attenzione verso i nostri confronti e verso il nostro lavoro. Se entro due giorni non si otterranno risposte concrete, le organizzazioni sindacali indiranno lo stato di agitazione del personale dipendente dell'area del comparto. Inoltre chiederanno l'attivazione della procedura di conciliazione delle controverse di fronte al prefetto di Pesaro Urbino. Non sono soltanto i primi covid che mancano? Assolutamente sì, manca molto altro. Parliamo anche delle progressioni orizzontali che mancano dal 2018 al 2019. La produttività 2018 al 2019, già da troppo tempo i dipendenti dell'area vasta 1 sono penalizzati. Quindi rischiamo come sempre di avere dei dipendenti, sia medici, infermieri e os, che sono di serie A e di serie B, a differenza all'interno della regione Marche. Io credo che questa amministrazione ha fatto dei flop dappertutto, quindi sarebbe opportuno che forse gli amministratori decidessero anche di dare le dimissioni, fortemente di dare le dimissioni.